15.000 donazioni di sangue all'anno in provincia dell'Aquila sono una quantità che copre appena il fabbisogno e che rende necessario aumentare la disponibilità di sangue, favorendo un ricambio dei donatori più avanti con l'età, che sono la maggioranza, con quelli più giovani. Un'esigenza che diventa più che mai importante nella giornata mondiale del donatore di sangue che si celebra domenica 14 giugno. Per l'occasione la ASL Avezzano sul Monall'Aquila sarà al fianco delle varie associazioni di volontari per sensibilizzare la popolazione e informare sull'importanza di donare. Tra le iniziative va segnalata quella di Pescina, organizzata dalla sezione Avis Comunale del Comprensorio. Dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà un gazebo informativo in Piazza Mazzarino con distribuzione di materiale informativo. Nel pomeriggio poi, sempre a Pescina, nel Teatro Comunale San Francesco, alle 15.30 si terrà la conferenza sul tema Donare il sangue, come, quando e perché. Interverrà tra gli altri il direttore del servizio Immunomatologia e Trasfusionale della ASL numero 1, Luigi Dell'Orso. Perché donare? Che cosa comporta e quali benefici dà allo stesso donatore? Donare sangue non fa né bene né male. È un'attività che è stata negli anni perfezionata proprio per non creare alcun tipo di problema a chi dona il sangue. Diciamo che è un'attività che fa bene psicologicamente perché chi dona il sangue sente di avere fatto qualche cosa di utile per gli altri. È una forma di prevenzione, di medicina preventiva, perché il donatore viene sottoposto a controlli periodici che servono a mantenere anche lo stato di salute. A Sulmona, nella stessa giornata, i medici del centro trasfusionale dell'ospedale saranno a fianco dei volontari con un gazebo che sarà collocato dalle 9 alle 23 in Piazza 20 Settembre. Ad Avezzano, poi, i volontari dell'Avis saranno in Piazza Risorgimento a partire dalle 9, sempre con materiale informativo.